Ciao a tutti, oggi video di Natale, siamo qui in compagnia della guest star e oggi faremo una challenge, una sfida tra di noi anche se il risultato è a mio sfavore. Sono stata da Tiger, ho preso le casette di marzapane e adesso proviamo a comporla. E vediamo chi vince alla fine, qua è quella che mi piace di più. Andiamo. Ma questo è un piatto? Probabile. Quanto sono poco preparata. Allora, quindi questo sono... Marco, basta questo piatto, tutto grosso queste cose. Questa è la coccolita! Questa è la quarta rientrata. Scusa, questo che è? Ma non ci stanno le istruzioni. Ma spieghi. No. Non è riala, ricordo solo. Non c'è il pavimento che sta a casa? No. Sì. Allora. Ah, questo è il tetto! Ah, ho capito! Allora. 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 it's Christmas time, but you're not here right now It's been a few years now, and this cold town's not quite the same I wish you were here now, but a fire's stoking the flame Can you spend a drive in the sleigh, or was it the Grinch and he got away Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a while No! 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 But you're not here right now To put up the lights, the candles on the metal What are we doing? What are you talking about? What are you talking about? I... We could do something that we will do every year Like... I'm going to do something... It's stort No! 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 It's stort I don't know... It's stort It's stort Without you Grazie a tutti 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 Grazie a tutti